Zecche un anno dopo. C'è scherza sopra Giuseppe Dalbentri che fu sulle zecche la sua prima conferenza stampa dal commissario dell'Ulz, uno Dolomiti. I dati rimangono costanti. Con una quindicina di persone qui ogni anno in provincia di Belluno, viene diagnosticata una malattia trasmessa dalle zecche come la borreliosi e la tibie, di cui la prima si cura con una terapia antibiotica. La seconda si può prevenire con un vaccino che per i bellunesi è gratuito e che ha visto punte di somministrazione di oltre 15.000 dosi annue. Un animale piccolo che può fare dei malanni grandi, nel senso che può dare veramente delle patologie lime borreliosi che possono essere veramente pesanti per l'uomo. Ci sono delle cure, ma c'è soprattutto un vaccino che deve essere assolutamente, dal nostro punto di vista, usato perché previene la forma più grave della patologia da zecche. Zecche che verranno studiate attraverso il progetto MONZECC, da qui all'agosto 2026, con un finanziamento europeo di quasi 200.000 euro, di cui 80.000 verranno spesi nel bellunese. Zecche che possono far ammalare gli esseri umani e con ancora maggiore facilità gli animali, tra cui quelli domestici come cani e gatti. Anche per loro valgono le terapie antibiotiche, mentre non sono ancora stati creati vaccini. Le zecche sono pericolose anche per gli animali, ci sono vari patogeni che possono essere trasmessi al cane, tra cui anche la TPE, oppure la borreliosi di lime, che si vede spesso magari nei cani da caccia. Quindi dobbiamo porre particolare attenzione alla protezione del cane prima delle escursioni in bosco, o comunque ormai anche in territorio urbano, perché abbiamo visto che le zecche sono estremamente diffuse, e utilizzare quei prodotti a libera vendita o su consiglio del veterinario libero professionista per proteggerli.